Va bene, allora oggi vi parlerò della solitudine. La solitudine che essenzialmente si può dividere in due tipi di solitudine, che è quella fisica, quando non c'è nessuno proprio fisicamente vicino a te, e c'è anche un altro tipo di solitudine, che uno può essere anche circondato di amici, ma si sente solo, cioè ha uno stato d'animo interiore, quindi è una solitudine, si sente da solo, si sente spiritualmente da solo, perché questo tipo di solitudine è una solitudine spirituale interiore, è proprio uno stato d'animo, anche se uno è circondato da tanti amici, come ero io ad esempio quando non ero credente, ero sì circondato da tanti amici, ma non c'era comunione, quindi mi sentivo interiormente solo, circondato di amici, ma mi sentivo solo, spiritualmente solo, non potevo esprimere i miei sentimenti, quelli profondi, perché sapevo di non essere capito, quindi non c'era comunione, non c'era quella fiducia in coloro che, non riponevo fiducia in coloro che erano vicini a me, quindi mi sentivo solo, non potevo parlare praticamente con nessuno, non potevo esternare con nessuno, cosa che invece con i fratelli, dopo è una cosa che è venuta a mancare, questa solitudine spirituale, nel momento in cui il Signore mi ha salvato, quindi potevo parlare con i fratelli e mi capivano, anche nei sentimenti più profondi, ecco c'era una certa fiducia. Questa solitudine spirituale si può anche avvertire come un senso di mancanza di aiuto, cioè uno si sente di non avere aiuto, no? Questa mancanza di aiuto, ma anche nelle cose più semplici, uno si può trovare in difficoltà, teme di trovarsi in difficoltà perché non c'è nessuno che lo aiuta e questo è un sentimento che nasce interiormente, magari non hai un bisogno impellente di aiuto, però sentendoti solo interiormente si crea quella solitudine, quel bisogno, quella sfiducia perché non c'è nessuno che ti può aiutare, non c'è nessuno, oppure uno si sente senza essere appoggiato, approvato, si sente senza difese, no? Magari si sente fragile in quel momento e si sente senza difese, senza che nessuno lo capisca, non può condividere quindi i suoi sentimenti. Quindi c'è da distinguere queste due solitudini, no? La solitudine fisica, ad esempio, che può avere un fratello o una sorella che attende un marito, attende una moglie, si sente solo, cioè ha bisogno di un compagno, di una compagna, di una moglie o di un marito. Quello è un tipo di solitudine, ma c'è quell'altro tipo di solitudine che è spirituale, che è quello che ti può prendere e puoi non essere capito anche se hai tante persone che ti circondano e anche può prendere questa soprattutto, diciamo, mentre la solitudine fisica è più comprensibile, no? È più visibile, cioè o sei da solo o sei in compagnia con i fratelli, no? Soprattutto con i fratelli o in famiglia. Quella solitudine fisica è un po' più semplice da individuare. Ma quella solitudine, cioè il sentirsi soli, senza nessuno che ti aiuta, che ti capisce, che ti sostiene, è una solitudine interiore che ti può, che ti può, diciamo, danneggiare anche spiritualmente. È questo a cui siamo soggetti tutti. Ora, nella Chiesa oggi cosa sta avvenendo? È vero, sentiamo anche una certa solitudine fisica, nel senso che ci vogliamo incontrare fisicamente, conoscere, abbracciarci, salutarci fisicamente con una stretta di mano, guardarci negli occhi. Certo, ci manca questo. Ma quello che, secondo me, a cui bisogna badare di più e che bisogna combattere con più forza, più energia, è quella solitudine interiore. Perché se uno non è a posto col Signore, se uno non è a posto con i fratelli, se uno non è a posto con gli altri e con se stesso, sente questa solitudine, cioè non si sente approvato, non si sente capito, non si sente difeso, non si sente appoggiato. E anche altre cose, che è un sentimento però interiore, è uno stato d'animo. Questo senso di solitudine interiore è uno stato d'animo che è profondo dentro di noi. E possono passare dei momenti, possiamo tutti passare di questi momenti. Magari sì, abbiamo una famiglia, abbiamo tanti fratelli, abbiamo altre persone, colleghi di lavoro che ci apprezzano, siamo vicini a tante persone, ma possiamo attraversare dei momenti in cui si sente la solitudine, quella solitudine interiore. In un certo momento non siamo capiti. Magari stiamo attraversando un momento difficile e quindi si tengono tutti un po' lontani. Dicono oggi è un po' nervoso, ma stai attraversando un momento, non sei capito e una delle cose che ti fa più male è appunto non essere capito. C'è questo senso di solitudine profondo interiore. La soluzione è semplice. La soluzione è che il Signore è sempre con noi. Sia quelli che stanno aspettando una compagnia fisica, vogliono che si cessi il loro stato di solitudine fisica, cioè che vogliono un marito, vogliono una moglie, vogliono incontrare i fratelli, anche quello dipende dal Signore. Tutto dipende dal Signore, ma anche la solitudine spirituale dipende dal Signore. Quindi noi mantenendoci in comunione continua con il Signore, conoscendo quello che dicono le Sacre Scritture, questo senso di solitudine spirituale interiore viene attenuato, deve scomparire, perché la cosa più importante è che il Signore sia con noi, sia con noi e non ci abbandoni. Ma se noi non abbandoniamo il Signore, se noi non abbandoniamo la via della verità, noi possiamo inciampare in questa via che stiamo percorrendo, possiamo certo, però se non abbandoniamo il Signore, se non abbandoniamo la retta via, se noi rimaniamo fermi e diciamo sì, questa è la strada, questa è la parola, questa è la strada che mi indica la parola, non un uomo, ma è una strada che ci sta indicando la parola, che il Signore e lo Spirito Santo ci fanno sentire dentro, quando siamo in comunione con Lui, che dobbiamo camminare per quella strada. Ecco, quella strada, se noi non la abbandoniamo, il Signore rimarrà sempre con noi, non ci abbandonerà. Se noi abbandoniamo il Signore e la retta via, è chiaro che anche il Signore ci abbandona. Non sentiamo più la sua presenza, la sua comunione, quindi è importantissimo, è importantissimo, la soluzione di tutti i nostri problemi di ogni genere è sempre quella di rimanere attaccati al Signore, in comunione con il Signore e questo può avvenire, questo può avvenire principalmente quando noi perseveriamo nella preghiera, nella santificazione, nello studio della parola e siamo attenti, abbiamo sempre le orecchie tese per ascoltare i comandi che Dio ci dà e quello che dobbiamo fare, chi dobbiamo aiutare, chi dobbiamo incoraggiare, chi dobbiamo sostenere con la parola o come Dio ce ne dà la possibilità, a seconda dei bisogni. Bisogna essere attenti, non solo chiedere al Signore, ma poi bisogna aspettare anche che il Signore ci dica, ci metta davanti delle opere che noi poi dobbiamo fare. Sappiamo determinate opere che dobbiamo fare tutti i giorni, pregare, studiare le Sacre Scritture e aspettare che il Signore ci metta davanti delle opere affinché noi le pratichiamo. Questa è la volontà di Dio. Se noi ci manteniamo in questo modo, se noi badiamo alle nostre vie curando queste cose, noi vinceremo ogni momento in cui questa solitudine, soprattutto spirituale, ci prende e ci vuole vincere, ci vuole atterrare. Perché è vero che a volte viene e ci sentiamo incompresi, ci sentiamo soli, solo. Non sei capito, non sei apprezzato e questo crea una solitudine, cioè un isolamento dagli altri spiritualmente. Però il Signore non ti abbandona, il Signore è l'unico che ti conosce fino in fondo, è l'unico che conosce le tue debolezze, ma anche i tuoi punti di forza, le opere che tu hai fatto nel segreto che nessun uomo ha visto e non ti può apprezzare. L'uomo non ti potrà mai apprezzare nella maniera corretta. Chi ti apprezza nella maniera corretta è solo il Signore. Quindi solo a Lui, solo da Lui devi aspettarti, ti devi aspettare veramente approvazione, perché Lui solo ti può capire bene in profondità. Fatta questa introduzione volevo leggervi alcuni passaggi che fanno comunque riferimento a questi due tipi di solitudine, fisica, spirituale, e a volte quella fisica ti porta anche a sentire una solitudine anche spirituale. Cominciamo con un salmo. Nel libro dei salmi dice così, salmo 68 al versetto 6. Il Dio dona al solitario una famiglia, trae fuori i prigionieri e da loro prosperità. Solo i ribelli dimorano in terra arida. Vedete? Il Dio cosa fa? Cosa è scritto? Questa è una preghiera innalzata dal salmista a Dio ed è una considerazione, uno stato di fatto ispirato dallo Spirito Santo. Quindi questa è parola di Dio, è parola verace che si avvera. Il Dio dona al solitario una famiglia. Che tipo di famiglia? Tu, uomo, desideri una moglie? È Dio che te la darà, è in lui che devi confidare, è a lui che devi guardare e aspettare e gridare. Gridare a lui e lui ti darà una famiglia di quel genere. Una moglie ti darà un marito alle sorelle e devi confidare in lui perché è lui che manda questa compagnia, è lui che provvede a non farti più sentire solo. Nel caso in cui il Dio non provveda in quella maniera è perché il Dio ha un altro piano, un altro disegno e Dio non si sbaglia. Comunque Dio cosa provvede? Provede una famiglia, comunque la provvede. È la famiglia dei credenti, è la famiglia dei santi, è la Chiesa che il Signore non ci lascia soli perché attorno a noi ci sono i fratelli, ci sono le sorelle. Anche quella è una famiglia a cui dobbiamo guardare perché ne facciamo parte. Gli altri sono parte della mia famiglia, io sono parte della loro famiglia perché la Chiesa è una famiglia. Uno può avere la sua famiglia ma c'è anche la famiglia più allargata che è quella della Chiesa. Quindi il Signore ti provvede comunque una famiglia. Tu non sei solo, non sei da solo in questo cammino verso la nuova Gerusalemme, non sei da solo. Tu stai camminando, se hai una moglie o hai un marito, hai dei figli, stai camminando con loro verso il cielo, ma se non hai marito e non hai moglie stai camminando con gli altri fratelli, come faceva il popolo di Israele quando abbandonò l'Egitto, quando uscì dall'Egitto, attraversò il Mar Rosso e camminava verso la terra promessa. Così stiamo facendo noi, stiamo camminando tutti verso la terra promessa, che è il cieli, che è il paradiso che è nei cieli. Ma stiamo camminando da soli? No, stiamo camminando con gli altri fratelli e sorelle. Non stiamo camminando da soli, stiamo camminando con gli altri. Quindi perché sentirsi soli? Perché sentirsi scoraggiati perché sei da solo? Non è corretto. Certamente lo so che hai bisogno di un contatto fisico con i fratelli, hai bisogno di vederli, di stringergli la mano. Però non sei da solo. Questo non è corretto pensarlo e farsi scoraggiare da questo pensiero, perché non sei da solo in questo cammino su questa terra. E hai anche il Signore, ma quando anche non vedessi nessuno della Chiesa attorno a te, ti rimarrebbe sempre il Signore, perché il Signore non ti abbandona, è vicino a te, il Signore nostro Gesù Cristo è vicino a noi, a ciascuno di noi, non ci lascia comunque sia. Quindi vedi, vedete che non si è soli in questo cammino, non si è soli in questo cammino verso la terra, la terra promessa che Dio ci vuole donare, dare, assegnare. a te. Ora leggiamo quello che un servo di Dio ha pensato. Andiamo a leggere. Prima re, un servo di Dio che è Elia. Come si sentiva Elia? Elia ha avuto un sentimento interiore, si è mai sentito solo ed ha avuto dentro di sé un sentimento di solitudine? Sì, lo ha avuto. E il Signore poi gli ha risposto. Cioè, era da solo che camminava come piaceva a Dio, era rimasto lui solo, oppure ce n'erano altri? E il Signore gli ha risposto. Quindi andiamo a leggere nel libro Prima re, dal capitolo 19, leggiamo dal versetto 9. E qui vi entrò in una spelonca. Allora, il contesto è questo. In precedenza, Elia, con grandi segni e prodigi fatti da Dio, uccise tutti i profeti di Baal, i falsi profeti, praticamente. Fece una prova con loro. Se Dio era Baal, praticamente, avrebbero fatto scendere il fuoco sul sacrificio dei profeti di Baal. Se invece l'Idio da seguire era l'Eterno, l'Idio di Israele, allora sarebbe stato l'Idio che invocava Elia a far scendere il fuoco dal cielo. Naturalmente fu l'Eterno a far scendere il fuoco dal cielo. E poi tutto il popolo prese quei profeti e Elia li scannò in un torrente. Avvenne questo, questo prodigio e avvenne anche tutto questo. Ora, una donna malvagia chiamata Jezebel sentì che avvenne tutto questo e minacciò di morte Elia. Elia fuggì nel deserto. Perché ricordatevi che i servi di Dio, anche i servitori di Dio, erano fatti come noi di carne e ossa, avevano le stesse passioni che noi, subivano le stesse passioni nella loro vita, nella loro carne, nei loro pensieri. Come li subiamo noi oggi? Non è che erano dei supereroi che non sentivano paura, non subivano sentimenti e passione come li subiamo noi. E queste cose sono scritte per ricordarcelo. Quindi, Elia ebbe paura e scappò nel deserto per fuggire dalle mani di questa donna Jezebel. Ecco, a questo punto inizia le scritture che voglio citarvi. 19,9 di Prima Re. E qui vi entrò in una spelonca e vi passò la notte. Ed ecco gli fu rivolta la parola dell'Eterno in questi termini. Che fai tu qui, Elia? Egli rispose, io sono stato mosso da una gran gelosia per l'Eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figlioli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Questo è il punto. Elia pensava di essere rimasto da solo. Sono rimasto io solo. Sono solo io a servire Dio. Come dire che oggi nella Chiesa diciamo sono rimasto solo io, o siamo rimasti solo noi in pochi. E non è così. Infatti Dio cosa gli rispose a Elia? Il Dio gli disse esci fuori e fermati sul monte dinanzi all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce dinanzi all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento e dopo il vento un terremoto ma l'Eterno non era nel terremoto e dopo il terremoto un fuoco ma l'Eterno non era nel fuoco e dopo il fuoco un suono dolce e sommesso come Elia l'ebbe udito si copersi il volto col mantello. uscì fuori e si fermò all'ingresso della spelonca ed ecco che una voce giunse fino a lui e disse che fai tu qui Elia? Ed egli rispose io sono stato mosso da una gran gelosia per l'Eterno per l'Iddio degli eserciti perché i figlioli di Israele hanno abbandonato il tuo patto hanno demolito i tuoi altari hanno ucciso con la spada i tuoi profeti sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita e l'Eterno gli disse va rifà la strada del deserto fino a Damasco e quando sarai giunto colà ungerai Hazael come re di Siria ungerai pure Yeu figliolo di Nimshi come re di Israele e ungerai Eliseo figliolo di Shafat da Abel Meola come profeta il luogo tuo e avverrà che chi sarà scampato dalla spada di Hazael sarà ucciso da Yeu chi sarà scampato dalla spada di Yeu sarà ucciso da Eliseo ma io lascerò in Israele un resto di settemila uomini tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato dinanzi a Bal e la cui bocca non l'ha baciato vedete quindi Elia era convinto era convinto che era rimasto da solo invece il Dio innanzitutto gli ha detto che doveva lavorare quindi non doveva rimanere lì nel deserto ma doveva fare determinate cose perché il Dio si era riservato come anche cita Paolo che Paolo lo cita nel libro dei Romani il Dio si era riservato settemila uomini che non hanno piegato che non hanno piegato le loro ginocchia a Bal quindi sbagliava Elia a dire che sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita sono rimasto io solo sono da solo Elia stava sbagliando perché il Dio aveva un certo numero che faceva parte del suo popolo che non aveva piegato le sue ginocchia a Bal cioè che si erano concentrati a servire l'Eterno e a non servire assolutamente altri dei stranieri e così è oggi anche se noi ci riteniamo di essere soli a servire il Dio ci sentiamo soli perché vicino a noi non c'è nessuno beh sappiate che è vero forse fisicamente non c'è nessuno ma spiritualmente c'è un certo numero che Dio ha stabilito che servono il Dio che servono il Dio come lo serviamo noi che magari non li conosciamo per nome ma ci sono perché Dio se li è riservati capite il Dio si è riservato queste persone e Paolo lo cita in questa maniera 11.2 di Romani il Dio non ha reieto il suo popolo che ha preconosciuto non sapete voi quel che la scrittura dice nella storia di Elia come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo signore hanno ucciso i tuoi profeti hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cercano la mia vita ma che egli ma che egli rispose la voce divina mi sono riservato settemila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Bal e così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia ma se è per grazia non è più per opere altrimenti grazia non è più grazia qui l'Apostolo Paolo sta spiegando essenzialmente che un resto di Israele un certo numero di Israele il Dio si è riservato per salvarlo un certo numero ma quello vale il discorso della solitudine vale anche per oggi perché anche se noi ci sentiamo soli e in pochi o addirittura solo qualcuno si può sentire solo sono rimasto solo io dobbiamo sapere che Dio si è riservato settemila cioè c'è un certo numero che serve il Dio come lo serviamo noi o meglio di come lo serviamo noi non siamo solo noi non siamo rimasti solo noi quindi non ci dobbiamo sentire soli prima di tutto non dobbiamo farci vincere o meglio dalla solitudine spirituale perché insieme a noi c'è prima di tutto il Signore quindi anche se veramente rimanessimo da soli su questa terra spiritualmente fisicamente il Dio è con noi quindi questo già basterebbe ma il Dio ha detto ha fatto sapere a Elia e quindi ha fatto sapere anche a tutti noi che si è riservato quindi lui ha agito in una certa maniera che ci fosse ci sia in ogni tempo un numero di credenti che sta camminando con noi nella via maestra nella via che va verso la nuova Gerusalemme verso i cieli c'è un certo numero quindi possiamo dire di essere da soli o di essere in pochi noi non dobbiamo dire né che siamo in pochi né che siamo da soli noi dobbiamo dire che siamo il numero che Dio ha stabilito quello giusto non è né troppo né poco è il numero giusto quello che Dio ha stabilito li conosco tutti io quelli che camminano con me verso la terra promessa non li conosco tutti ne conosco qualcuno e quindi non siamo soli anche se non li conosciamo spiritualmente non ci dobbiamo sentire soli perché siamo attaccati al Signore e perché sappiamo che c'è un certo numero che sempre in tutte le epoche ha camminato verso il regno dei cieli e così dobbiamo fare noi e questo sentimento però lo dobbiamo avere dentro questa pienezza di convinzione deve essere dentro di noi quindi non dobbiamo soffrire di questa solitudine spirituale si può affacciare dentro di noi ma la dobbiamo respingere perché ci crea turbamenti perché ci crea scoraggiamento capite? e non è e non è biblico non è corretto perché non siamo da soli quindi dobbiamo sapere queste cose affinché ce le ricordiamo quando abbiamo determinato si affacciano dentro di noi determinati sentimenti che ci spezzano le gambe che non ci fanno camminare come dovremo ora vediamo un altro che è rimasto da solo un altro evento di cui aveva bisogno l'Apostolo Paolo dobbiamo andare nella seconda epistola di Paolo a Timoteo al capitolo 14 del versetto 16 voi sapete che l'Apostolo Paolo fu arrestato fu arrestato e portato a Roma e si doveva difendere perché c'erano delle accuse che furono lanciate contro di lui lui si appellò a Cesare e a Cesare fu portato quindi ci furono delle accuse contro di lui e lui si doveva difendere ora in una di queste difese l'Apostolo Paolo scrive queste parole le scrive a Timoteo nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco ma tutti mi hanno abbandonato non sia loro imputato ma il Signore è stato mecco e m'ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili lo dissero e sono stato liberato dalla gola del leone qui Paolo è stato accusato e messo addirittura dice sono stato liberato dalla gola del leone cioè fu messo fu messo come per essere sbranato dai leoni e Dio lo ha liberato non ha permesso che i leoni lo sbranassero come persone lo hanno abbandonato tutti vedete fu abbandonato da tutti l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo che in certe occasioni era circondato di fratelli che lo ascoltavano mentre parlava quando venne invece il momento di stare con lui magari nella difesa aveva bisogno di conforto di aiuto di sostegno e di appoggio vedete la solitudine spirituale aveva bisogno di questo appoggio fu lasciato solo e lui lo scrive ne ha sentito la mancanza anche l'Apostolo Paolo vedete quindi è una cosa che anche i servitori di Dio hanno sentito però guardate cosa c'è scritto non dimentichiamoci che è vero che lui ha subito questo ha sentito dentro di sé questo stato d'animo però guardate cosa dice il Signore è stato meco e mi ha fortificato il Signore se tu non lasci il Signore se tu non lo abbandoni il Signore se tu non lasci la diritta via il Signore non ti abbandonerà mai sarà sempre vicino a te ti libererà sempre da ogni male da ogni pericolo dai tuoi nemici ti libererà perché egli è Dio è al tuo fianco è vicino a te non lo vedi non importa ma è vicino a te lo stesso noi dobbiamo camminare per fede non vedendo le cose sempre dobbiamo credere in quello che è scritto Paolo lo dice è scritto il Signore è stato con me mi ha fortificato mi ha fortificato capite quindi a volte quando ci troviamo ad affrontare dei problemi e siamo soli e ci hanno lasciato tutti magari il significato l'insegnamento che il Signore ci vuole dare è che noi ci dobbiamo appoggiare maggiormente a Lui di più a Lui credere che Lui anche se gli uomini ci hanno lasciato tutti il Signore invece non ci lascia non ci abbandona nel pericolo quando abbiamo bisogno di appoggio di sostegno nel momento difficile della difesa stava rischiando la vita se il giudizio fosse negativo Lui sarebbe stato messo a morte infatti l'hanno messo lì per essere sbranato da un leone cosa ha fatto il Signore non ha permesso al leone di sbranarlo come poi già è avvenuto vi ricordate a Daniele fu messo anche Daniele in una fossa dei leoni nulla di strano quindi non stiamo dicendo nulla di strano cose che sono già avvenute non c'è nulla di nuovo sotto il sole il Dio non ha permesso che succedesse in quel momento succedesse nulla di male all'Apostolo Paolo perché il Signore era con lui e lo ha fortificato ma il Signore non è solo con Paolo non è stato solo con Paolo il Signore è anche con tutti noi e lo dobbiamo credere con tutto il cuore non dobbiamo farci vincere da questi sentimenti negativi che nascono dentro di noi di solitudine che infiacchiscono le braccia infiacchiscono le ginocchia e non ci fanno camminare come dovremmo sembra che sei solo ma tu non sei da solo non puoi dire che sei da solo non lo devi pensare non lo devi dire magari ti manca la vicinanza dei fratelli va bene questo è se mancano fisicamente non possiamo dire da quel punto di vista la solitudine fisica si sente ma quello che è importante è governare sempre tenere sotto controllo quello stato d'animo della solitudine spirituale interiore quella è quella che ti infiacchisce di più quindi devi stare attento non ti fa gioire se tu ti senti così magari non ti fa gioire quando c'è quella vicinanza quella comunione con i fratelli non riesci a gioire di quella comunione neanche con i fratelli perché dentro sei turbato ti sei fatto vincere da quella solitudine spirituale il Signore è con te e questo è scritto lo vogliamo scrivere nelle stelle lo vogliamo scrivere nel cieli perché è una parola eterna capite non passa questa è una parola di promessa certa il Dio è con te io non ti lascerò non ti abbandonerò è una parola che ha pronunciato il Dio non può mentire il Dio non può mentire capite non può essere che tu sei stato abbandonato da Dio perché Dio non mente quello che ha detto lo farà sapete quando il Signore abbandona qualcuno quando quel qualcuno lo rinnega quando quel qualcuno abbandona la via diritta la via della giustizia e della verità ecco allora c'è il rischio che Dio lo possa abbandonare cercherà di castigarlo di riportarlo nella via diritta ma se poi insiste allora sarà prima o poi può essere abbandonato ecco in quel caso ma se qui non stiamo parlando di cadute perché camminando nella via del Signore si fanno anche tante cadute si cade l'abbandonare la via del Signore è qualcosa di un po' più grave cioè proprio non ne vuoi sapere più del Signore abbandoni tutto la verità quello che è scritto nella parola che uno che cade però riconosce che quello che è scritto nella parola non ha abbandonato la verità è solo caduto e ha bisogno di rialzarsi ma è sempre in quella strada chi rinnega chi rigetta alcuni passi chi rigetta la verità quello sta abbandonando sta prendendo un altro sentiero sta camminando da un'altra parte ecco quelli sì ma se tu vuoi ami il Signore cerchi il Signore vuoi rimanere nella sua via vuoi camminare nella sua via stai tranquillo il Dio non ti abbandona lui non ti abbandona non ti lascia e questa è una cosa certa assoluta non è dubitabile una cosa del genere ora voglio leggervi un altro passaggio che riguarda sempre Elia però il soggetto principale che voglio presentarvi è una donna una vedova una vedova e torniamo al libro dei re al primo libro dei re dove parla di Elia bene la situazione era difficilissima in quell'epoca Elia aveva pregato aveva pregato affinché ci fosse una carestia affinché non piovesse sulla terra e venne una grande carestia e quindi la carestia colpì tutti colpì tutti ora il Dio mandò Elia come anche dice Gesù viene citato poi anche nei Vangeli il Dio mandò Elia da questa vedova e leggiamo prima re 17 dal versetto 1 Elia il Tishbita uno di quelli che si erano stabiliti in Galad disse ad Aqab come è vero che vive l'Eterno l'Idio di Israele di cui io sono servo non vi sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola e la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini partiti di qua volgiti verso oriente e nasconditi presso al torrente Kerit che dirimpetto al Giordano tu berrai al torrente ed io ho comandato ai corvi che ti diano quivi da mangiare egli dunque partì e fece secondo la parola dell'Eterno andò e si stabilì presso il torrente Kerit che dirimpetto al Giordano e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera e beveva al torrente ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non veniva pioggia sul paese allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini levati va a Sarepta dei Sidoni e fa quivi la tua dimora ecco io ho ordinato colà ad una vedova che ti dia da mangiare egli dunque si levò e andò a Sarepta e come giunse alla porta della città ecco quivi una donna vedova che raccoglieva delle legna egli la chiamò e le disse ti prego vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva e mentre l'andava a prenderne egli le gridò dietro portami ti prego anche un pezzo di pane e la rispose come è vero che vive l'eterno il tuo dio del pane non ne ho ma ho solo una manata di farina in un vaso e un po' d'olio in un norciuolo ed ecco sto raccogliendo due stecchi per andare a cuocerla per me e per il mio figliolo e la mangeremo e poi morremo Elia le disse non temere va e fa come tu hai detto ma fanne prima una piccola stiacciata per me e portamela poi ne farai per te e per il tuo figliolo poiché così dice l'eterno l'iddio di israele il vaso della farina non si esaurirà e l'orciuolo dell'olio non calerà fino al giorno che l'eterno manderà la pioggia sulla terra ed ella andò e fece come le aveva detto Elia ed essa la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo il vaso della farina non si esaurì e l'orciuolo dell'olio non calò secondo la parola che l'eterno aveva pronunziata per bocca di Elia vedete Elia aveva pregato il cielo non dava la sua pioggia quindi la terra non dava i suoi prodotti di conseguenza mancava sia l'acqua che i prodotti della terra che senza l'acqua non crescono in primo luogo il Dio ha mandato Elia in un luogo deserto ha mandato in un luogo deserto ed era da solo era da solo quindi gli ha detto bevi dal torrente e poi cosa ha fatto il Signore per provvedere al suo servo il Dio a provvedere a mantenerlo in vita vedete perché questo ci fa conoscere questi passaggi ci fanno conoscere chi è il nostro Dio come agisce ci sono limiti a quello che Dio può fare lo so che questi passi alcuni non ci credono non ci credono che Dio abbia dato ordine ai corvi di portare pane e carne a Elia non ci credono invece è proprio così c'erano dei corvi animali quelli neri e marroni i maschi sono neri e le femmine sono marroni marrone scuro che portavano del pane e della carne così come scritto perché a Dio nulla è impossibile egli fa quello che vuole c'è forse qualcosa di difficile ma non sono tutti questi animali agli ordini del nostro Dio non ha forse fatto anche parlare un'asina muta per riprendere la follia del profeta Balaam certo l'ha fatta parlare allora che cosa c'è di difficile per il nostro Dio e questo ci fa capire chi è il nostro Dio nel quale noi riponiamo la nostra fiducia la sua mano può operare tutto quello che lui vuole nulla è impossibile al nostro Dio nel quale noi riponiamo la nostra fiducia e la nostra vita nulla è impossibile al nostro Dio quindi Dio vedete nella sua solitudine Elia il Dio era con lui gli mandava i corvi a portargli da mangiare da bere scusate da mangiare pane e da mangiare anche carne si serviva dei corvi si serviva di tutto quello che lui ha creato si può servire il nostro Dio non ha limiti capite e questo è il nostro Dio poi cosa è successo cosa ci dice il racconto questa vedova aveva un'ultima praticamente un ultimo pezzo aveva farina per farsi un ultimo pezzo di pane per lei per il suo figliole poi sarebbero morti il Dio cosa ha fatto dove l'ha mandata Elia perché Gesù poi nei Vangeli citando questo passaggio per riprendere i giudei gli dice che il Dio mandò Elia a una donna diciamo che non era giudea vedete come il Signore si prende cura di chi vuole lui capite di chi ha voluto lui prendersi cura Elia fu mandato per far vivere quella vedova e la sua famiglia e non altri perché Gesù dice c'erano molte vedove in Israele ma Elia fu mandato a una donna che era nella zona dove erano i fenici nella zona dei fenici vedete cioè con tutte le vedove che c'erano in Giudea da assistere Elia il Dio mandò Elia dove? a una vedova tra i fenici perché perché venne quella carestia per punire il popolo di Israele perché erano malvagi e si erano allontanati dai comandamenti di Dio ma Dio vedete quando decide una persona bisognosa sola va bene perché qui dice che era una vedova all'epoca le vedove erano veramente sole perché o avevano dei figli che lavoravano e gli davano da mangiare non c'era l'assistenza sociale come c'è oggi che magari una donna una persona sola viene comunque assistita dallo Stato all'epoca o ti davano da mangiare i tuoi parenti o tuo marito o tuo figlio che andava a lavorare o niente questa donna era vedova e suo figlio sembrerebbe che sia giovane e non lavorava quindi non avevano più nulla praticamente avrebbe mangiato il suo il suo ultimo pane pezzo di pane poi sarebbe sopraggiunta la morte per la fame invece Dio cosa fece questa donna Dio ha decretato che vivesse lei e la sua famiglia lei aveva bisogno di aiuto si sentiva sola una vedova si sente sola certo si sentiva bisognosa di aiuto aveva bisogno di un sostegno aveva bisogno veramente di un appoggio e gli fu dato quindi questa donna che si sentiva una solitudine che era una solitudine che era a morte perché ormai non aveva più nulla da mangiare il Dio provvide per quella donna mandandogli Elia e infatti i contenitori della farina dell'olio non calavano li usava ma non non calavano e qui mi viene in mente una testimonianza di un fratello che non avevano che pochi pochi grammi di pasta da mangiare in quella giornata la mise a cucinare questa sorella che ho conosciuto personalmente sia la sorella che ha cucinato sua madre sia questo fratello si mise a cucinare questa pasta che era pochissima non bastava neanche per due allora cosa successe? vennero dei fratelli a trovarli proprio nel momento dell'ora di pranzo e questo fratello disse va bene allora prepariamo mettiamo il piatto anche a voi e questo fratello mise il piatto anche a voi quando questa sorella si mise a riempire i piatti di pasta col suo contenitore vide che la pasta non diminuiva non diminuiva e riuscì a riempire della pasta e ne rimase anche e questa sorella piangeva piangeva mentre serviva questi piatti i fratelli non capivano che cos'era successo e poi gliel'ha raccontato l'ha raccontato e tutti rimassero edificati perché là era il segno che Dio era presente capite quindi quello che leggiamo che è scritto nella parola non è che è accaduto lì nella parola e oggi non accade più no quello che è stato prima può esserci anche oggi perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole capite come Dio ha operato in passato può operare ancora oggi e se tu sei sola hai bisogno di aiuto il Signore è il tuo sostegno il tuo aiuto il tuo appoggio quello di cui hai bisogno e necessità il Signore ti sosterrà perché egli è Dio hai creduto in Dio non hai creduto in un uomo hai creduto in colui che tiene tutto l'universo nelle sue mani che fa girare tutti i pianeti che fa girare tutto che dà calore anche al sole questo è il nostro Dio che fa vivere tutti gli animali li fa volare quelli a terra li fa camminare quando decreta lui che la morte debba sopraggiungere sopraggiunge ma se lui decreta che devono vivere vivono e così anche gli uomini questo vedete dunque il nostro Dio questa vedova si sentiva da sola ma Dio gli ha mandato il sostegno di cui aveva bisogno era una vedova era bisognosa la carestia comunque aveva colpito tutti e Dio ha mandato questa ha mandato Elia a sostenere questa donna così anche oggi se tu hai bisogno di qualsiasi cosa inginocchiati davanti al Signore grida a Lui perché Lui è vicino a te ti ascolta tu riceverai quello di cui hai bisogno quello che il Signore sa di cui hai veramente bisogno perché a volte pensiamo di avere bisogno di qualcosa e invece non abbiamo bisogno di quello oppure deve rientrare nella volontà di Dio quindi chiedi pure inginocchiati davanti al Signore con piena fiducia perché il Signore è il tuo sostegno non ti lascia da solo non sei da solo e non ti lascia da solo quello che tu devi fare è essere fedele fedele a Dio ai Suoi comandamenti alla Sua parola inginocchiarti adorare lì Dio che ha fatto i cieli alla terra che ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo a morire sulla croce per i nostri peccati quello è lì Dio che tu devi adorare a quello ti devi rivolgere e da Lui tu riceverai quello di cui hai bisogno ma solo abbi fede devi avere fede in questa tua preghiera devi crederci in quello che stai chiedendo perché e devi conoscere lì Dio al quale tu rivolgi queste preghiere perché conoscendo il Dio e questi passi che abbiamo citato ti aiutano a capire chi è lì Dio come opera lì Dio che noi invochiamo e che cerchiamo tutti i giorni come opera il nostro Dio ecco come opera opera anche nella maniera che abbiamo letto nei passi fino adesso quindi questo è il nostro Dio nel quale ci possiamo veramente rivolgere con tutto il nostro cuore con tutta la nostra fiducia perché Gli è degno ed Egli provvederà non ti lascerà solo non ti abbandonerà perché Lui l'ha promesso perché Lui è Dio e non è possibile che abbia mentito questo è un punto fermo assoluto noi possiamo mentire ma il Dio non può aver mentito in nessuna maniera ed ora passiamo a un altro passaggio andiamo al Vangelo di Giovanni adesso e leggiamo di un uomo solo che da 38 anni era malato e aspettava l'aiuto di qualcuno quindi era solo lui stesso poi lo dichiarerà era solo siccome era avvenuto che il Dio aveva stabilito in questa maniera nella piscina di Bethesda nella vasca di Bethesda ogni tanto quando Dio stabiliva scendeva un angelo e muoveva l'acqua quando qualcuno malato il primo che scendeva in questa piscina in movimento quando l'acqua era mossa guariva di tutte le sue malattie quindi con questa speranza vicino a quella vasca in attesa che un angelo mettesse in movimento l'acqua c'erano tantissimi infermi malati paralitici tra cui c'era uno che era malato da 38 anni di cui adesso leggiamo alcuni passaggi capitolo 5 del Vangelo di Giovanni dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme or a Gerusalemme presso la porta delle pecore vi è una vasca chiamata in ebraico Bethesda che ha cinque portici sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi di ciechi di zoppi di paralitici i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito e Quivi era un uomo che da 38 anni era infermo Gesù vedutolo che giaceva e sapendo che già da gran tempo stava così gli disse vuoi essere risanato l'infermo gli rispose signore io non ho alcuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me Gesù gli disse levati prendi il tuo lettuccio e cammina e in quell'istante quell'uomo fu risanato e preso il suo lettuccio si mise a camminare vedete quindi Gesù gli fece una domanda era lì per quello per essere guarito voleva essere guarito Gesù gli disse vuoi essere tu sanato e lui giustamente rispose in base all'esperienza che aveva non riusciva sicuramente era successo più volte in 38 anni non so quante volte ma più di una volta che l'acqua è stata mossa da quell'angelo e lui non è riuscito ad arrivare per primo voleva essere guarito dice io non ho alcuno quindi aveva bisogno di sostegno lui era là solo perché non aveva nessuno che lo potesse accompagnare quando l'acqua era mossa non lo accompagnava nessuno lui era solo abbandonato dagli uomini però era stato lasciato solo dagli uomini ma chi andò a lui il Dio chi mandò Gesù il padre gli mandò lo mandò a lui a questo infermo che poi tra l'altro era infermo perché aveva peccato infatti più avanti la scrittura dice ecco tu sei guarito non peccar più che non ti accada di peggio questo cosa significa significa che lui era in quella condizione di paralitico perché aveva peccato ma il Dio è misericordioso anche verso quelli che sono inciampati che sono caduti che hanno peccato tu credi in Dio hai sbagliato e sappi che il Signore ti sostiene lo stesso perché la condizione per non sostenerti è quella che tu lo rinneghi che tu abbandoni completamente la sua via il peccato purtroppo è qualcosa che ci colpisce tutti ma noi subito dobbiamo andare al Signore a chiedergli perdono confessare i nostri peccati e chiedere a Gesù che ci purifichi il nostro peccato con il suo sangue ed egli è fedele e giusto da purificarci da ogni peccato quindi vedete quando anche uno ha peccato anche tra i suoi figlioli sappia che non è solo lo stesso e Dio non ti lascia solo non ti ha lasciato solo non ti lascerà solo chiedegli perdono e il Signore manderà la tua guarigione la tua liberazione manderà quello di cui tu hai bisogno manderà il Signore nostro Gesù Cristo a darti quello di cui tu hai bisogno qui non c'è niente su questa terra che ci possa dividere dal Signore nostro non ci abbandona egli non ci abbandona non ci abbandona se abbiamo peccato l'unica cosa è se noi lo rineghiamo quella è una cosa che non dobbiamo mai fare rinnegare il Signore ecco quella è l'unica cosa che rende inefficace il sangue di Gesù perché tu rinneghi di aver conosciuto Gesù Cristo mentendo naturalmente e quindi non può più agire Gesù se tu l'hai rinnegato non può più agire nei tuoi confronti l'hai rinnegato ma se non l'hai rinnegato qualsiasi peccato tu abbia commesso inginocchiati e chiedi perdono a Dio ed Egli ti sosterrà la tua solitudine scomparirà la tua solitudine spirituale perché sarà il Signore a sostenerti ad appoggiarti a darti l'aiuto il suo aiuto la sua compagnia la sua comunione fraterna sarà Lui a dartela tu tu fai quello che devi fare così il Signore avrà le potere opererà opererà quello che Lui deve fare e vuole fare quindi ognuno di noi deve fare la la sua parte anche Gesù sempre in Giovanni anche in Gesù anche Gesù si sentì solo no in determinati momenti e Gesù dice queste parole e in questo caso Gesù parlava del momento in cui sarebbe stato arrestato sarebbe stato diciamo fatto soffrire avrebbe sofferto tante cose poi sarebbe stato messo a morte ecco Gesù parlando di quel momento dice queste parole preannunciò queste cose e disse l'Evangelo di Giovanni capitolo 16 dal versetto 32 ecco l'ora viene anzi è venuta che sarete dispersi ciascun dal canto suo e mi lascerete solo ma io non sono solo perché il Padre è con me vedete anche Gesù infatti quando andò a morire quando fu arrestato rimase solo lo abbandonarono tutti però Gesù cosa disse mi lascerete solo e quindi cosa vuol dire questo vuol dire che Gesù capisce quelli che rimangono soli sia fisicamente che spiritualmente interiormente si sentono soli il Signore le ha provate Gesù queste cose sa cosa sono quando noi ci rivolgiamo a Gesù gli diciamo Signore mi sento solo ho bisogno di compagnia ho bisogno di qualcosa di un appoggio di un sostegno il Signore è il tuo sostegno perché Lui lo sa che cosa stai provando dentro di te profondamente lo sa perché l'ha sperimentato Lui non lo sa soltanto perché Dio ti sente e magari avverte il tuo dolore interiore Lui lo sa anche perché Lui l'ha sperimentato personalmente questa solitudine spirituale e anche fisica perché l'hanno abbandonato tutti non c'è stato nessuno che è stato al suo fianco quando è stato il momento più difficile della sua vita in questa carne nella carne simile alla nostra quando poi è stato messo a morte e l'ha detto mi lascerete solo vedete ma io non so quale è stata la sua risposta però voi mi lasciate solo ma io non sono solo perché il Padre è con me e bene sappiate tu ti sembra che tu sia solo ti sembra a te ma quando ti inginocchi e senti la comunione con Dio ti senti riconciliato con Dio lo vedi quella comunione che ti fa sentire che Dio è con te allora non sei solo vedete non sei solo perché il Padre è con te Gesù è con te non sei solo quindi quella solitudine che tu senti non ti deve infiacchire non ti deve scoraggiare non ti deve abbattere perché non sei solo in verità tu non sei solo perché il Signore è con te quindi questa solitudine che ti prende sappi che non ti deve vincere perché tu non sei da solo non è vero che sei da solo il Signore è con te e vale più di molti uomini capite vale più di molti uomini la comunione con Dio la consolazione profonda che ci può dare il Signore è più di quella che può portare un uomo ma molto di più quindi sei solo no non sei solo se dici io mi sento solo si puoi averne il sentimento puoi sentirti però sappi che non lo sei non puoi dire io sono sempre solo è sbagliato perché il Signore è sempre vicino a te è dentro di te quindi guardate quando vi lamentate col Signore dite sono solo sappiate che state mentendo state mentendo perché non sei solo perché il Signore è con te allora non sei solo allora devi cambiare la tua lamentela la devi cambiare la tua preghiera la devi cambiare devi dire devi dire Signore vorrei che ci fosse a fianco a me dei fratelli delle sorelle capite quello di cui hai bisogno ma non puoi dire io sono solo non lo puoi dire non lo puoi dire perché il Signore è con te e volevo chiudere questo questo incoraggiamento con un passo dei salmi salmo 25 al versetto 16 leggiamo questa è l'invocazione di un uomo solo che rivolge la sua preghiera a Dio ti senti solo e devi pregare Dio perché solo Dio spiritualmente interiormente solo Dio può colmare quella solitudine non c'è un uomo che la può colmare capite l'uomo può cercare di aiutare ma quello che può colmare pienamente la nostra solitudine interiore è solo il Signore quindi cosa dovremmo fare dobbiamo invocare il Signore dobbiamo gridare a Lui come il salmista gridò e dice 25 516 volgiti a me ed abbi pietà di me perché io sono solo ed afflitto vedete quindi era nella distretta il salmista e ha rivolto ha gridato a Dio volgiti a me guardami fammi sentire la tua presenza abbi pietà di me questa è l'invocazione che si deve fare del Signore perché io mi sento solo non sei solo ma se tu dici mi sento solo vieni a me fammi sentire che sei vicino a me sappi sempre però che non sei da solo questo lo devi sapere quindi indirizza bene le tue preghiere adesso lo sai invoca il Signore puoi dirgli che mi sento solo che mi sento afflitto ho bisogno di consolazione di appoggio di sostegno di aiuto certo quell'aiuto che può venire solo dall'Eterno solo dal Signore ecco con la preghiera con la comunione con Dio si può risolvere tutti i nostri sentimenti turbamenti quello che abbiamo dentro di noi tutte le nostre agitazioni ansie ecco l'ansietà quella paura magari anche paura quella paura che uno sente il Signore con la sua presenza spazza via tutto e questo era fratelli e sorelle l'incoraggiamento che ho voluto darvi in questa sera a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amin l'anima l'anima